E adesso la pubblicità! Mal di testa, nausea, vomito, nevralgie, recuperatevi! Mamma, mamma, vorrei del cioccolato qualcosa di nuovo e una sorpresa! E chi ti pare che hai a Banca Rosabuni? La tua automobile è distrutta, la tua casa si è incendiata, la tua ragazza ti ha lasciato, hai perso il lavoro? Taccate una pecia al coddo e calda a mare! Abbiamo trasmesso i consigli per gli acquisti, salutami i toi e baciami me e sabso ogni sordi manda a mille! Ciao! 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 Ciao!